Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Te Lo Dico Io, l'angolo in cui vi parlo delle uscite cinematografiche consigliate da noi della redazione di Scream Week. Oggi amici ci occupiamo degli arrivi in sala della prima metà di febbraio. Siete pronti? Allora andiamo! E iniziamo con Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, in sala dal 6 febbraio. Film diretto da Cathy Yan è ambientato quattro anni dopo gli eventi accaduti in Suicide Squad. Conclusa la storia col suo amato Joker, Harley Quinn, Margot Robbie, cerca di rialzarsi e superare la rottura, negando i dispiaceri in cibo spazzatura e cercando qualche brivido scoppiettante. Una volta messo un cerotto sul cuore spezzato, la folle antieroina si ritrova a Gotham per la prima volta sola e non più asservita al suo Mr. J, scopre l'indipendenza. Purtroppo però il suo passato sentimentale le ha procurato non pochi nemici e la nuova Harley è perseguitata da un sacco di gente che vuole farla fuori. Primo tra tutti il temibile re del crimine, Black Mask, Ewan McGregor. Mentre cerca di restare tutta intera, incontra altre tre supereroine. Sono Black Henry, Antress e l'agente di polizia René Montoya. Una cosa comuna a tutte queste donne apparentemente diverse, Black Mask dà la caccia a ognuno di loro. Ed ecco che Harley Quinn ha una delle sue fantasmagoriche idee. Perché non fare squadra tutta insieme e sconfiggere il cattivone? Nascono così le Birds of Prey, un team di vigilanti. Riusciranno queste combattenti a sconfiggere il perfido Black Mask? Il 13 di febbraio tornano invece i Kingsman, con Kingsman le origini. Il film, diretto da Matthew Vaughan, è il terzo capitolo della saga cinematografica basata sul cinecomic book The Secret Service, di Mark Miller e Dave Gibbons. Il film racconta come è nata l'agenzia di intelligence indipendente, che tutti conosciamo con il nome di Kingsman. Le radici della società segreta affondano nella Gran Bretagna della Prima Guerra Mondiale, ed è in questo periodo che nella terra inglese nasce una nuova generazione di guerrieri d'elita. Segue una raccolta dei peggiori tiranni e menti criminali della storia, riuniti tutti insieme per uno scopo comune. Organizzare una guerra che spazi via milioni di vite umane. E qua non te sbagli. Soltanto un uomo potrà tentare di fermarli in una corsa contro il tempo prima che sia troppo tardi. Da qui nascerà un nobile codice d'onore, quello di Kingsman, impegnato nella silenziosa difesa dell'umanità intera, che prima di combattere cerca di capire chi è il suo avversario e come può sconfiggerlo. Altrimenti ancora il 3DG c'è Fantasy Island. Film diretto da Jeff Wadlow, è l'adattamento in chiave horror della serie di successo Fantasilandia, trasmessa tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. La storia vede l'enigmatico Mr. Rourke, Michael Peña, ospitare nel suo lussuosissimo e remoto resort, sito in una sperduta isola tropicale, chiunque voglia realizzare il suo sogno nel cassetto. Mr. Rourke infatti da forma a qualsiasi fantasia il suo ospite gli chieda, grazie all'aiuto di attori e scenografie. Ma ben presto i sogni si trasformano in incubi e gli ospiti si ritrovano intrappolati sull'isola, dalla quale possono fuggire solo risolvendo il mistero che l'isola stessa nasconde segretamente. E sempre il 13 arriva finalmente il rimandatissimo, chiacchieratissimo Sonic. Film diretto da Jeff Fowler, è incentrato sull'omonimo personaggio dei videogames, l'alieno blu dalle sembiazze di un riccio, con il potere della supervelocità, e inoltre sa saltare molto in alto e usare l'energia cinetica per combattere. L'ufficiale del dipartimento di polizia di San Francisco, Tom Wachowski, James Marson, diventato sceriffo di Green Hills nel Montana, si reca a San Francisco per aiutare Sonic, extraterrestre sfuggito alla cattura del governo grazie alla sua velocità. Sonic dovrà sconfiggere uno scienziato pazzo, il dottor Ivoro Botnik, Jim Carrey. Bene cari amici, questo era tutto per oggi, grazie per essere stati con me, grazie per aver guardato, come sempre fatemi sapere qual è il film che non vedete, è l'ora di andare a vedere qual è il film che proprio non vedreste mai, manco se vergarassero il biglietto. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, al canale dei social di Screen Week, e per altri contenuti di cinema venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!